Arrivano buone notizie per l'ospedale civile di Agropoli, infatti l'asala Salerno ha portato a termine le procedure per l'acquisizione di attrezzature e macchinari ospedalieri per una somma vicina ai 500 mila euro, attrezzatura che sarà destinata al nosocomio agropolese che al più presto potrà riavere delle sale operatorie attive. Tra le attrezzature acquisite dall'asala sono presenti una colonna per laparoscopia 3D, un apparecchio per lavaggio e disinfezione, un apparecchio per anestesia, un tavolo operatorio, due ventilatori polmonari di cui uno da trasporto, un elettrobisturi ed una lampada scialitica. È anche prevista un'aggiunta di 10 posti letto di oncologia nell'ospedale, oltre ai già presenti 10 di medicina generale. Già negli scorsi mesi il presidio ospedaliero di Agropoli era stato soggetto ad interventi di ristrutturazione mirati soprattutto alle sale operatorie. Le rinnovate sale operatorie permetteranno di effettuare piccoli interventi chirurgici. Nonostante ciò la popolazione agropolese rimane scettica e accoglie questi interventi in modo non particolarmente favorevole, visti gli accadimenti passati in cui l'ospedale di Agropoli è stato usato come strumento di propaganda elettorale e, viste le vicine elezioni regionali, i cittadini rimangono diffidenti e timorosi nei confronti di chi ha privato il territorio agropolese cilentano di un bene primario come il presidio ospedaliero di Agropoli e chi ora cerca di rendere meno amara una questione che sta portando tanti disagi e che purtroppo sta facendo poco rumore al di fuori di Agropoli.